Dal Vangelo secondo Marco Sali poi sul monte Chiamò a sé quelli che egli volle Ed essi andarono da lui Ne costituì dodici Perché stessero con lui E anche per mandarli a predicare E perché avessero il potere Di scacciare i demoni Costituì dunque i dodici Simone Al quale imposi il nome di Pietro Poi Giacomo di Zebedeo E Giovanni, fratello di Giacomo Ai quali diede il nome di Buanerges, cioè figli del Tuono E Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso Giacomo di Alfeo, Taddeo Simone il Cananeo E Giuda Iscariota Quello che poi lo tradì Non c'è chiamata? Non c'è vocazione? Senza un luogo geografico E un luogo spirituale Un luogo ontologico, diciamo Un luogo intimo Il luogo geografico è il monte Il monte Il monte dell'alleanza Il Sinai Dove Dio ha stretto Ha stipulato Un'alleanza Con il suo popolo Infranta mille volte Sino anche Il suo figlio Gesù Cristo Su un altro monte Il Golgotha Quell'alleanza L'ha stipulata nel suo sangue Come nuova ed eterna Nuova ed eterna ogni giorno Il monte delle beatitudini Il monte dove appare l'uomo nuovo L'uomo rinato in Cristo Dove appare Cristo Nei cristiani Nei suoi discepoli Un monte Il monte della croce Il monte del Calvario Che è un telo di sasso Dalla tomba Dove Gesù è stato deposto E da dove è risuscitato Un luogo È una volontà La volontà Di Dio La volontà di Dio Che si manifesta Proprio su quel monte Io quando sarò innalzato Attirerò tutti a me Dice il Signore Ecco Ecco la fonte La fonte della missione La fonte della vocazione Qualsiasi vocazione È solo sulla croce C'è solo in quell'amore Fuori dal Dall'ordinario In quell'amore straordinario In quell'amore che Giunge sino alla fine Dei nostri fallimenti Dei nostri peccati Dei nostri macelli Quell'amore impressionante L'amore che non Che l'uomo non può Offrire Solo quell'amore Chiama Attira Come dice il cantico Dei cantici Attirami dietro a te E corriamo Celeveremo i tuoi amori Più del vino Che dolce Che dolce Che suave Che inebriante È il tuo amore Dietro a questa parola C'è il cantico Dei cantici Fratelli C'è un amore Infinito Un amore che scoppia Un amore pieno di zelo Un amore Infinito Un amore che Che giunge Laddove nessun uomo Può giungere Ad amare il peccatore All'amare Ciò che il mondo Rifiuta Gesù Crocifisso Sul monte Ci ha abbracciato Ci ha sedotti Ci ha attirati Ci attira oggi Oggi In questa giornata In questo venerdì Di cui facciamo Non a caso memoria Della passione Del nostro Signore Gesù Cristo La passione Non la passione umana Le passioni Non la passione È vero Il patire Patire Per entrare Nei nostri Dolori Possiamo riposare Allora Fratelli Possiamo riposare Come presbiteri Come sacerdoti Come vescovi Come madri Come padri Possiamo riposare Perché? Perché Gesù Chiama quelli Che egli Vole Chiamò a sé Quelli che Egli Vole Cioè tu sei voluto Da Dio In spagnolo Interessantissimo Perché Amare Si può dire in due modi Cherer E amar Cherer E amar Cherer E volere C'è una volontà Nell'amore Che non è Innamoramento Carnale Passionale Genitale Alle volte Non solamente Affettivo No no C'è una cosa di più profondo C'è una volontà Capisci che Il tuo essere padre Il mio essere prete Il tuo essere madre Il tuo essere suora Il tuo essere consacrata Scaturisce Da questa volontà Dalla volontà Di Dio Apparsa Rivelata Sulla croce C'è una volontà Ben ponderata Una volontà Che Sorge Dalla sofferenza Dal dolore Dalla passione Dal patire Di Cristo Gesù Cristo Ha dato la vita Per te Per questo Ti ha voluto Cioè ti ha voluto Amandoti Ha deciso Che tu Che tu Tu Sia Una cosa con lui Chiamò A sé Chiamò a sé Sulla montagna Sulla croce Attirò a sé La sua intimità Quelli che egli volle C'è una volontà Di intimità Una volontà che Farti suo Associarti alla sua vita Associarti a questo amore Associarti alla sua missione Che è dare la vita Non so se mi spiego Non è una volontà Gesù ti conosce E questo è il punto Gesù sa chi sei Molto più di quello Che tu conosci Di te stesso E così vale Per i tuoi figli Così vale Per il tuo fratello Così vale Per tuo padre Per tua madre Così vale Per i tuoi parrocchiani Per gli altri Che stanno Nella missione con te Per le famiglie Che conosci Gesù conosce Ti conosce Profondamente Sa chi sei E per questo Ha deciso Di chiamare proprio te Di attirare proprio te E per chiamarti Ha dato la vita Conoscendo quel che tu sei Conoscendo che io sono un macello Conoscendo che Le mie nevrosi La mia ira La mia testa che gira sempre Veloce E che pensa 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 Ragiona E si illude Di aver capito tutto E non riesce a mettersi in ginocchio Davanti a nessuno Davanti alla storia Davanti alle umiliazioni Davanti ai rifiuti Gesù conosce perfettamente Di che pasta tu sei fatto Di che pasta io sono fatto Gesù non esige nulla Gesù Per farti padre Perché dice Fare La parola La parola originale è Fare Fece Costituì Vuol dire fare Creò Plasmò I discepoli Gli apostoli Gli plasmò Per fare te Ha dato se stesso Per farti Apostolo E' sceso dove tu sei Non ti ha detto Dai Sforzati un pochino Dai Mettici in buona volontà Dai Quante volte ascoltiamo Ho scelto Dio Un'opzione Preferenziale Per Tante volte Anche Alle volte Alcuni Sono scendati novelli O suore Eccetera Ma questo vale anche Per il matrimonio Non voi avete scelto me Ma io ho scelto voi Tu non hai scelto Tuo marito Per quanto Era bellissimo Stupendo Simpatico Dolce Per quanto Tu ti sia Innamorata Del suo modo Di fare Delle sue parole Per quanto Tu ti sia Innamorato Di tua moglie Per quegli occhi Meravigliosi Quegli occhi Che stendevano Pure un bufalo Per quanto Erano dolci Belli Per la sua parola Per il suo corpo Per quello che sia Per la sua storia Per la sua vita Tu è stato Come dire Un Un cerino acceso Per dare fuoco Ma Dio aveva fatto tutto E Dio che ha scelto Tua moglie per te E Dio che ha scelto Tuo marito per te E Dio che ha scelto Te come prete E Dio che ha scelto Questi figli E Dio che ha scelto Questi genitori per te Tutto sta in questa parola E Dio che in Gesù Cristo Suo figlio Che ha dato la sua vita Che è salito sul monte Portando la croce Che aspettava a te A me Ha scelto Ha chiamato E ha plasmato E sta plasmando Giorno dopo giorno Nella chiesa Nella chiesa E con la vita Con la storia Di ogni giorno Con gli eventi Sta plasmando Potando Limando Colmando La sua immagine in te Adesso Non esiste Non ti amo più Non mi piaci più Non sto più bene con te Quello che può dire un prete A Gesù Cristo Indirettamente Perché si è namora di una donna O perché Non ce la fa più Con il carico Del ministero La difficoltà Le sofferenze I fallimenti La solitudine Eccetera Non può esistere Non può Non può esistere Che tu non ami più tua moglie Ma che significa? Non l'hai scelta tu È opera di Dio Allora vuol dire che tu Ti sei staccato da Dio Vuol dire che tu Ti sei divincolato Dalle braccia di Gesù Cristo Stai rifiutando Il suo amore Che ti attira a sé Questo è il punto fondamentale Noi possiamo riposare Perché dice una cosa Ed è molto importante Fratelli Ne costitui Ne fece Dodici Che stessero con lui E poi Anche Per mandarli a predicare Perché scacciassero i demoni La vocazione A stare con lui Anacoriti Come diceva la parola ieri Scostare un pochino la barca Cioè Stare Nel mondo Ma non del mondo Essere una sola cosa con Cristo Essere tutti monaci Monaci Siamo monaci Sì Fratelli Monaci Siamo una sola cosa Con lui Nella Chiesa Nel corpo Santo Che è il suo popolo Che sono i fratelli Nella Chiesa Nella comunità cristiana Nelle liturgie Per evitare fughe mistiche O pseudomistiche Io sento Io capisco Io vedo Io No, no, no Camminare nella Chiesa Stare con Cristo È molto semplice È camminare nella vita Di tutti i giorni Entrare nella storia È molto semplice Lavare i panni Pulire il sedere Ai bambini Fare le cose Di tutti i giorni Studiare 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 Servire Fare quello che devi fare Prendere la metropolitana Piena di gente Che soffochi Dagli odori Fare la fila alla posta Entrare nella malattia In un cancro Con Cristo Con Cristo In Cristo Il tuo nome Il tuo nome È in Lui Il tuo nome Esiste in Lui Dio ha scelto ciò che è nulla Per ridurre a nulla Quelle cose che si suppone Che siano Ma ha scelto te Un nome Una persona concreta Così come sei Così come sei Significa Con il tuo carattere Con i tuoi difetti Con le tue qualità Con quello che tu sei E quello che è la tua famiglia Quello che è stata La tua storia Sino ad oggi E quello che sarà La tua storia Oggi e domani Con il tuo ambiente Tu 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 sei stato scelto Per stare con Lui Per rimanere con Lui Amare il tuo figlio Significa stare con Cristo Ma stare più tempo Con Cristo Che con il tuo figlio Sì Amare il tuo marito Significa stare più tempo Con Cristo e con Lui Nel senso Di vivere tutto in Lui Di vivere tutto in Cristo Di riportare sempre tutto a Cristo Anche la sessualità Anche i rapporti sessuali Quando vi unite In Cristo In Cristo Attirati dal suo amore Nella certezza Ogni giorno più forte Che non sei stato tu A scegliere Lui Ma Lui Ma Lui ha scelto te Per questo non si tratta Di fare molte cose Tranquilli Tranquilli Si tratta di fare Quello che Dio ci dà di fare Da qui nasce Lo zelo Da qui nasce L'innocenza Da qui nasce L'alter Cristo L'apostolo Che vuol dire Inviato Che vuol dire Ambasciatore Shalin In ebraico Cioè Un altro se stesso Di chi invia Quindi un altro se stesso Di Cristo Ma questo si compie Soltanto se la tua intimità Con Cristo È perfetta Se la tua vita Coincide perfettamente Con la sua Ma questo Dove si dà questo Nella chiesa Nella chiesa fratelli Dove ci Dove il corpo di Cristo Sono i fratelli Dove ci viene dato Il corpo di Cristo Nel sacramento Dell'eucaristia Dove riceviamo il suo perdono La sua parola Scende Dentro di noi Si compie Perché è interpretata Perché È annunciata Nella verità È attualizzata Nella tua vita E si compie Nella croce Sulla croce Fratelli Sul monte Per questo Essere apostolo Essere Prete apostolo Suora apostolo Vescovo apostolo Madre apostolo Padre apostolo Marito apostolo Moglie apostolo Figlio apostolo Finanzato apostolo Compagno di lavoro Apostolo Fratello Della comunità cristiana Apostolo Significa essere Crocifissi con Cristo Crocifissi con lui Una sola cosa con lui È questo che Scaccia il demonio È questo che ha Il potere sui demoni Essere con lui Quindi pregare Intensamente Pregare In intimità Mi chiedeva Una Una carissima amica Mi chiedeva Ma Come fare A non disperdersi Come fare A ritagliarsi Dei momenti Per stare in intimità Con Cristo Come si fa Chiuditi in bagno Stai al lavoro Vai in bagno E inginocchiati in bagno Inginocchiati E dici Signore Guarda C'è un sacco di cose da fare Aiutami Aiutami Non ce la faccio Guarda Devo stilare Guarda Mio figlio non lo sopporto Mio marito non lo sopporto Mia moglie non ce la faccio Guarda la malattia Chiuditi Cinque minuti E poi torna al lavoro E poi torna Certamente Davanti al Santissimo È evidente Stendere le braccia Parlare Piangere Con lui Quante donne Cercano Del marito Quello che non possono avere Chiedilo a Cristo È lui È lui che ti ha donato Il tuo sposo E così via Uniti Uniti a lui Salvaguardati Da noi stessi Dalla comunità cristiana Questo Genera lo zelo Per annunciare il Vangelo È un frutto E poi Annunciare il Vangelo Andare per le strade Evangelizzare sul posto di lavoro Fare La manifestazione Del 30 gennaio Tutto nasce da questa intimità Annunciare la parola Alla tua fidanzata Amarla Così com'è Amare le persone Scacciare i demoni Cioè avere potere sui demoni Che Ingannano Ci ingannano e ingannano Esorcizzare questi demoni Significa Essere uniti profondamente a Cristo Ecco Tutto questo è possibile Perché lui sale sul monte E ti attira a sé Gratuitamente Non per i tuoi meriti Non per le tue qualità Non per le nostre capacità Nemmeno per la nostra volontà Ma per la sua Totale Liberalità Per la tua totale Gratuità Perché lui dice Dico ti conosce E sei innamorato di te Sei innamorato di quello Che tu forse disprezzi Sei innamorato Della tua debolezza Sei innamorato Della debolezza Della tua moglie Per questo te l'ha data Per questo Ti ha donato tua moglie Ti ha donato tuo marito Per questo Ti ha fatto prete Vedè Nella tua Perché la tua debolezza È il luogo Dove Cristo Pianta la sua croce E manifesta l'onipotenza In questa generazione Coraggio allora Buona giornata Grazie a tutti